bella raga qua è Savix che mi parla bentornati in questo nuovo video dove vi voglio avvertire che è uscito un nuovo video esplorazione un video molto particolare raga perché siamo andati a visitare una delle cinque case ragazzi in realtà lo visitate tutte e cinque ma oggi vi faccio vedere la prima casa perché se no sarebbe un video di un'ora e non lo guarderebbe nessuno comunque sia ragazzi non vi potete perdere clip come queste quindi se volete andare a vedere il video io lascio il link in descrizione ragazzi e niente alla prossima bella raga